La Polizia di Stato denuncia un uomo di ritorno dalle isole Bahamas per aver violato le norme sul contenimento sanitario. Nella tarda mattinata di ieri, agenti dell'ufficio denunce della questura hanno denunciato un siracusano di 47 anni che, tornato da pochi giorni dalle isole Bahamas, non effettuando il previsto periodo di quarantena, si era presentato in questura per la denuncia di smarrimento di un documento. L'uomo pertanto trasgrediva le norme apposta a tutela del contenimento sanitario. Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato una donna di 28 anni per i reati di percossa e violenza privata perpetrate nei confronti di un'altra donna accusata di avere una relazione con il proprio marito. Agenti del commissariato di Pachino, impegnati nei previsti controlli sul rispetto del contenimento sanitario, hanno denunciato un uomo di 35 anni già noto alle forze di polizia per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale, lesione personale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. L'uomo, mostrando fastidio per i controlli che gli agenti stavano effettuando ad altri utenti, li ha apostrafati pesantemente e i componenti della volante rimanevano sbrigottiti quando lo stesso, passando più volte davanti all'uovo dove stavano operando, li ingiuriava e li minacciava ad alta voce, gridando di non avere paura della polizia. Quando gli agenti, sospendendo gli altri controlli, lo hanno avvicinato, l'uomo tentava di fuggire ma, prontamente raggiunto, dopo una breve colluttazione è stato denunciato per i reati suindicati.